Ed eccoci tornati in diretta con il nostro Market Star, in studio qualcuno canticchiava anche la sigla per enfatizzare l'appuntamento mensile, ma non so se si è sentito, però a me fa piacere perché c'è ovviamente gioia quando si fa questo appuntamento. Sara Silano, buongiorno, che torna a trovarci in Morning Star Italy, grazie. Buongiorno a tutti voi. Eri tu che canticchiavi? No, no, sono io posto. È stonata Sara Silano, non dovevi dirlo, non ti mettevo alla prova, non ti preoccupare. Buongiorno e ben trovata Giovanni De Mare, director Italy Sales di Alliance Bernstein e grazie per essere qui, quindi era lei che canticchiava? Era lei che canticchiava. Invece a lei piace cantare? Sono una paletana per cui nel DNA c'è. Ok, va bene, allora magari sul finale vediamo di farlo cantare Sara. Sicuramente cercherò di invece farvi parlare di temi cruciali, come sempre facciamo un bilancio mensilmente ovviamente a partire dall'analisi di Morning Star per poi declinarli anche rispetto a quelle che sono le vision di Alliance Bernstein. Andiamo per gradi e partiamo proprio dal tema più generale. Sara Silano, inizio con te, perché si è appena chiuso il terzo trimestre, quindi insomma facciamo appunto, come ho detto poco fa, un bilancio sui mercati finanziari. Che cos'è accaduto? I mercati finanziari si affacciano diciamo all'ultima parte dell'anno con il segno più. Se guardiamo il terzo trimestre è andato molto bene, l'indice Morris dei mercati finanziari globali ha guadagnato il 3,8%, quindi quasi il 4% in euro nel terzo trimestre, nonostante incertezze legate ai dazi, ne parleremo poi anche dopo, agli attacchi ai pozzi petroliferi in Arabia Saudita, alla crisi italiana, agli sviluppi ancora assolutamente incerti di Brexit. Ci sono stati dei segnali in realtà poi di distensione, la crisi italiana ha trovato in qualche modo una sua conclusione, sulla guerra invece dei dazi, sulle tensioni commerciali il capitolo è assolutamente aperto e anche per quanto riguarda il Reino Unito. La cosa interessante la vediamo proprio in questo grafico, in questa mappa. Se noi guardiamo all'andamento dei mercati, quelli in colore blu più intenso sono quelli sottovalutati, possiamo quindi dire che a livello globale la maggior parte dei mercati oggi ha delle valutazioni piuttosto attraenti, eccetto diciamo la parte australiana e questo sicuramente lo vediamo anche in Europa, lo vediamo in Italia, per rimanere in Europa, in Germania ma anche appunto nel Reino Unito e nella Spagna, quindi nonostante i rialzi del terzo trimestre vediamo ancora delle valutazioni attraenti sui mercati azionari. Ottimo, allora ha citato già Sara Silano una delle grandi incertezze, ormai è anche limitante dire del periodo perché ci trasciniamo questo bel punto interrogativo da tempo, c'è la guerra commerciale, no? E quindi ancora trattative tra l'America e la Cina che non arrivano a compimento. Allora ripartiamo da qui anche con lei Dottor De Mare, mi piacerebbe sapere qual è il vostro punto di vista e di conseguenza anche entrare subito nella praticità, cioè cosa favorire in questo momento proprio di incertezza mondiale. Certo, come diceva giustamente Sara siamo in un quadro in cui c'è crescita economica bassa e chiaramente questa guerra commerciale che mette ancora un po' più di nuvole su questo quadro abbastanza incerto. La verità è che tra le due grosse nazioni, Stati Uniti e Cina, quello che sta pagando veramente più lo scotto è tutta l'area più legata all'esportazione, cioè tutti i paesi più legati all'esportazione, tra cui l'Europa e il Giappone che chiaramente sono le economie più aperte, con una domanda interna meno forte come quella degli Stati Uniti o quella della Cina. Per cui il vero problema di questa guerra commerciale purtroppo lo sta pagando il terzo incomodo che saremo noi. Come possiamo affrontarlo da un punto di vista di investimenti? Sicuramente tenendo conto questa doppia vulnerabilità di fatto che l'Europa in particolare, cioè la capacità di adeguare le politiche monetarie, le politiche fiscali a questa situazione, quindi per poter essere più proattive nella crescita di queste due aree e da un altro anche chiaramente l'esposizione a quello che può essere delle aree di esportazione per i singoli paesi, tipo la Germania o anche l'Italia. Questo negli investimenti, facendo un passo più su quello che ci riguarda come allocatori professionisti degli asset, ci porta a una particolare selezione. Abbiamo visto che sicuramente la banca centrale europea, ma come quella di altre nazioni, ha ancora qualche cartuccio da sparare per cui può abbassare sicuramente ancora più i tassi. Questo da un punto di vista di valutazione e mi riaggancio a quello che diceva prima Sara, potrebbe riportare interesse sulla valutazione delle aziende europee e quindi una maggiore selettività su alcuni temi di investimenti nella Euro, con un leggero sovrappeso magari rispetto agli Stati Uniti, potrebbe essere in termini di situazione tattica più propedeutica a un investitore che sta guardando a questi liberi. Quindi un'attenzione sicuramente particolare a quello che può essere la situazione dei contingenti in termini di valutazione, sicuramente la crescita degli ultimi negli Stati Uniti ha comunque riportato le valutazioni sui rendimenti più attraenti rispetto a qualche tempo fa, perché i deals, i profitti sono cresciuti al 4%, i presenti è un po' sceso, quindi le valutazioni anche in quest'area sono particolarmente attraenti. Ok Sara, ovviamente se vuoi commentare qualcosa che ha detto il Dottor De Mare, ma restiamo sempre su queste tematiche, aggiungendo anche gli altri temi che prima tu anticipavi, quindi oltre alla guerra commerciale, il rallentamento in Germania, quindi per tornare in Europa si parlava di esportazioni, quindi ovviamente i paesi che puntano molto sulle esportazioni ovviamente sono penalizzati in questo contesto e già purtroppo i dati macro ci hanno mostrato questa debolezza. Poi c'è la Brexit, ancora ci siamo, fine mese dovremmo avere una risposta, il quadro macro futuro, quale potrebbe essere, come potrebbe essere costituito? Alcuni elementi da tenere in considerazione sono sicuramente quelli della politica monetaria che oramai ha utilizzato in Europa molte delle cartucce che poteva utilizzare nell'ultima riunione della Banca Centrale Europea, il governatore uscente ormai Mario Draghi ha invitato gli stati dell'Unione Europea a intervenire con delle politiche fiscali, quindi è questa un po' la seconda gamba che dovrà affiancarsi per sostenere la crescita, quella che è stata finora la gamba fondamentale della politica monetaria. Secondo i nostri analisti di DBRS, società che recentemente è stata acquisita da Mornistar, la crescita in effetti nell'area euro, come dicevamo anche prima, rimarrà debole nei prossimi mesi, non dobbiamo farci grandi illusioni, la Germania è effettivamente una delle cause, l'attività industriale in rallentamento, le guerre commerciali sono un'altra delle cause e poi appunto una uscita del Regno Unito senza accordo potrebbe ulteriormente aggravare la situazione insieme a eventuali imposizioni di dazi sulle auto europee da parte degli Stati Uniti, quindi questo per dire che comunque servirà effettivamente un concerto di politiche, di strategie per portare alla crescita, una crescita che dovrà essere sostenuta prima ancora che essere poi portata a dei livelli più interessanti di quelli che sono attualmente, cioè quello che è da evitare sicuramente un indebolimento della situazione economica, una volta stabilizzata sicuramente poi sarà necessario operare per ulteriori programmi di crescita. Ecco Dottor De Mare, prima abbiamo iniziato con i dazi però appunto ci sono anche la Brexit, il rallentamento della locomotiva europea, insomma vale un po' lo stesso discorso che faceva prima per l'incertezza ancora tra Stati Uniti e Cina? Sì, diciamo che questo inizio di anno da un punto di vista dei mercati azionali è stato un po' come dire, si è alternato tra incertezze da un punto di vista di crescita economica, dal punto di vista politico, dal punto di vista di quelle commerciali, ma al contempo l'animo all'interno dei mercati finanziari è sempre bilanciato tra sentimento, quindi da percezione di questi elementi e anche dalla mente, quindi dalle evaluazioni effettive. Guardando un pochettino quelli che sono anche in ambito azionario le evaluazioni che sono attualmente presenti sia sul mercato americano ma anche europeo e sui mercati emergenti, tutto sommato crediamo che ancora per quest'anno la crescita sui mercati azionali possa proseguire e al di là del fatto che come magari ben sappiamo Brexit rimane un punto di incertezza, abbiamo visto che in Italia già qualcosa si è chiarificato maggiormente al mondo della politica internazionale, questo abbia riassenerato gli animi degli investitori portando ancora un premio a rischio attraente per i investitori professionali e sicuramente una minore ansia della prestazione. Ok, senta, resto ancora un istante da lei per un'altra questione sempre centrale, quella delle banche centrali, per usare la stessa parola che sono sempre protagoniste ovviamente dei mercati perché ancora mettono in atto una politica accomodante, che aiuta, dà ossigeno ai mercati stessi. Questo come si traduce in quanto a impatti, rischi e opportunità ovviamente per gli investitori obbligazionari? Sicuramente per gli obbligazionisti in area euro la politica mondiale accomodante possa far ritornare su una buona parte della curva dei tassi interesse per altre aree, sicuramente per i mercati statunitensi, abbiamo visto che già lì i tassi nonostante si progette ancora dovrebbe abbassare anche lì ulteriormente il livello di tassi, sono comunque sicuramente più interessanti se non lasciamo la copertura, quindi se lasciamo il cambio aperto su queste obbligazioni per l'investitore europeo. E chiaramente stessa cosa vale per i mercati emergenti, dove c'è stato maggiore afflusso di liquidità, diciamo dopo la fuga dell'anno scorso da quest'area, sui mercati emergenti in hard currency e anche sull'area corporate che magari era stata per tanto tempo tralasciata, abbiamo visto che diterna un po' nei portafogli degli investitori obbligazionari che erano soltamente usi comprare la parte governativa, oggi si stanno spostando anche sulla parte societaria che sta diventando più liquida sicuramente rispetto al passato, più emissioni e quindi anche in quel caso lì un investitore europeo può trovare un maggiore appeal in termini di trade off risk e rendimento, nonostante possa lasciare il cambio aperto che può portare un po' più di volatilità all'interno. Certo, certo. Ecco Sara, noi siamo partiti oltreoceano con la nostra discussione, ma un accenno dobbiamo farlo necessariamente anche a Piazza Affari, nel senso che abbiamo archiviato, ma insomma da poco, una crisi di governo che insomma già in una situazione di mercati attendisti o comunque incerti ha scombussolato ancora di più la situazione, com'è la situazione adesso? Assolutamente è stata un'estate piuttosto movimentata per l'Italia e anche per il mercato finanziario italiano, la situazione lo abbiamo visto dallo spread, quindi dal differenziale tra i titoli di Stato italiani e quello di riferimento tedesco si è ridotto e questo sicuramente ha dato un'omboccata d'ossigeno sia ai conti pubblici ma anche ai conti delle banche, le banche che lo ricordiamo sono ancora impegnate nel risanamento dei loro conti, le banche che hanno avuto un ruolo importante nella performance dell'indice azionario italiano nel terzo trimestre, però ecco di fronte a questa situazione sicuramente il sistema bancario che è anche un peso importante nell'indice di Piazza Affari si trova ancora a non potersi permettere assolutamente che si formino nuovi crediti diciamo di cattiva qualità e a dover risanare questi conti e anche a dover far fronte a quelle che sono delle debolezze strutturali secondo i nostri analisti di fatto il sistema bancario italiano rimane molto frammentato e il quadro poco competitivo quindi c'è molto da lavorare da questo punto di vista se lo confrontiamo con altre realtà bancarie estere. Una delle attività che probabilmente potrebbe dare una diversificazione sempre secondo i ricercatori di BBRS è quella della banca assurance che oggi per la parte vita copre il 60% dei premi vita viene sottoscritto attraverso le banche quindi è una sorta di attività che può rappresentare un filone, un'attività di diversificazione e che appunto secondo i nostri esperti potrebbe interessare anche la parte non vita e quindi aumentare la diversificazione dei ricavi e quindi migliorare la redettività del settore bancario. Insomma anche nel settore bancario dobbiamo iniziare a guardare a quelli che possono essere dei cambiamenti che la rendano, che gli permettono di superare quelli che sono problemi strutturali del sistema. Certo, ecco dottor De Male, la parola diversificazione la fa sempre da padrone, in questo contesto abbiamo già parlato delle tensioni politiche, della guerra commerciale, mi piacerebbe capire se voi confermate, ma mi sta già rispondendo con lo sguardo sulla diversificazione degli asset, quindi su cosa bisogna puntare. Poi le faccio anche subito un'altra domanda, se le obbligazioni americane sono interessanti in questo momento. Assolutamente, partiamo dall'ultima a questo punto. Va bene. Le obbligazioni, mi ricollego a quello che diceva anche un po' Sara prima e a senso anche dell'ampio ragionamento della diversificazione, effettivamente oggi guardando alcune asset class che qualche tempo fa erano state un po' lasciate fuori dallo spettro degli investimenti, quindi mi riferisco a tutta la parte delle cartellizzazioni che c'è sul mercato americano, questo offre oggi con i commercial loans piuttosto che i CRT o le altre sigle che stanno a identificare la parte di cartellizzazione, non portando diversificazione sull'esposizione obbligazionaria negli Stati Uniti in quanto sono molto legate alla domanda interna. Mi riferisco al fatto che, come dicevamo prima, se oggi nella famosa guerra commerciale ci si può preoccupare un pochettino della crescita all'omanda a livello internazionale, probabilmente in un'ottica di investitore professionale guardare ai mercati che sono meno impattati dalla guerra commerciale, quindi nel caso specifico a tutte le emissioni legate ai mortgage o comunque legate alle cartellizzazioni sul mercato americano, non sono sensibili alla guerra commerciale, ma sono una proxy del mercato interno. Quindi se io devo diversificare sull'ambito obbligazionario statunitense, probabilmente, voglio avere una proxy della crescita del mercato americano, una legame a questi tipi di emissioni mi dà una diversificazione all'interno della mia esposizione. Quindi quello può avere senso. Un po' in senso più ampio, chiaramente, della diversificazione. È chiaro che oggi un investitore deve guardare, soprattutto anche in ambito di stili. Riferisco a quello, diceva prima Sara, nel primo trimestre, nell'ultimo trimestre e dall'inizio anno. Abbiamo visto una crescita quando andiamo a riclassificare le azioni tra growth, quindi ad alta crescita e value, dal 2006 per la prima volta, l'ultimo trimestre, ha visto la crescita delle azioni value. Quindi c'è stata una inversione completamente forte di intendenza, previando quelle aziende che dal 2006 non erano più previate. Quindi sta ridonando un pochettino un, come dire, amore nuovamente per quelle aziende che erano state trascurate negli ultimi, almeno dal 2006 tantissimo tempo. Per cui può essere una diversificazione anche in termini di stili molto importante. Molto importante. Peraltro, restando sempre sul discorso del mercato americano, Sara Mornizara ha appena pubblicato l'outlook trimestrale, giusto? Sul Ecco. Per il mercato americano. Quali sono i settori più importanti? Si ricollega un po' al discorso che facevamo adesso. Secondo le nostre valutazioni Wall Street oggi è scontata, è a sconto di circa il 2%, ma bisogna vedere i diversi stili di investimento, quindi questo value che è stato per tempo dimenticato e che ora è tornato, almeno in questa ultima parte, in questi ultimi mesi in auge, ma anche alla situazione macroeconomica. Quindi, ad esempio, pensiamo alle quotazioni del petrolio che sono ancora in una fase di incertezza e gli attacchi ai pozzi petroliferi in Arabia Saudita hanno aggiunto incertezza. Secondo i nostri analisti, lì nel settore energetico, ad esempio, delle possibilità di apprezzamento dei titoli energetici ci sono ancora. Sul fronte opposto, invece, se guardiamo al settore dei servizi di pubblica utilità, quindi delle utility, ci troviamo di fronte invece a un settore che ha corso molto nel corso degli ultimi anni, poi ha corso anche sulle attese di un taglio che poi si è verificato dei tassi da parte della Federal Reserve e quindi probabilmente vedere questo settore ancora crescere nel tempo e quindi su un orizzonte temporale più esteso diventa difficile. Questo per dire, guardiamo ai settori, guardiamo alle valutazioni dei settori, ma guardiamo anche alle implicazioni macro su questi settori. Ok, adesso volevo solo aprire, possiamo starci quanto vogliamo, limitatamente ai nostri tempi, il discorso sul green che abbiamo già affrontato anche in altre puntate di Market Star con voi e parto con il dottor De Mare, ho indagato un po' su di lei, lei non lo sa, a sua insaputa, so che è un appassionato, oltre ad essere appassionato di canto, che abbiamo scoperto in questa puntata, è un appassionato di moto. Esattamente, sì. Ecco, perfetto, ma da sempre? Da sempre, sì, da quando ero, ho mostrato i primi passi. Ecco, visto, parliamo di moto e di green, uniamo le due cose, come vanno insieme le due questioni? Alla luce, ovviamente questa è un po' la prima risposta, di importanti innovazioni, cambiamenti proprio, che vanno nella direzione del green. Beh, sicuramente il green ha impattato molto il mondo, il giornale automobilistico, come abbiamo visto con Tesla, da quel punto di vista è stato un precursore nella ricerca di un oggetto che si spostasse senza inquinare. E chiaramente ci sono stati molti investimenti, oggi abbiamo visto che in alcuni paesi come la Norvegia, sicuramente, che tra l'altro è uno simolo perché è un esportatore di petrolio e quindi ha il più alto volume di macchine elettriche. E quindi si sono mossi in anticipo rispetto agli altri. Tornando al mondo delle moto, lì si ritornano un po', diciamo, dalla mente al cuore, e la passione, diciamo, per i motori e quindi per l'inquinamento è un po' più difficile da, ovviamente, lasciare. Però è chiaro, bisogna avere le due moli, chi lo usa per la mobilità, chiaramente dall'altro per spostarsi, e chi poi ne fa una passione. Per quanto riguarda la mobilità, si va nella stessa linea del mercato automobilistico, quindi anche lì molte case stanno incominciando a lanciare dei mezzi, che possono essere chiaramente dei motorini piuttosto che degli scooter, che siano di facile utilizzo e di trasporto, che possono essere, tra l'altro, scerati, condivisi anche tra la popolazione. Abbiamo visto quanto, soprattutto a Milano, si sia condivisione di questi tipi di strumenti che permettono, da un lato, di ridurre i costi, abbattere sicuramente l'inquinamento da un lato e, ovviamente, anche la sostituzione di questi strumenti è molto più veloce. Per le moto abbiamo visto che alcune società, come Harley Davidson, è partita lanciando una delle moto più innovative da quel punto di vista, con costi veramente molto alti. Parlando un pochettino con i concessionari, con cui sono spesso in contatto, in amicizie, chiaramente fuori dall'ambito di lavoro, insomma, sono ancora un po' resti a sposare questa parte, chiaramente c'è ancora molto della cultura del biker, e quindi penetrare questo tipo di, come dire, friendly users' approach sulla parte delle moto, diventa ancora un po' precoce. Però sicuramente si muoverà in questo senso. Certo, certo, assolutamente sì. Poi, appunto, le innovazioni sono sempre più veloci, no? E, ripeto, per quello che abbiamo già parlato anche in altre puntate, ci sarà, peraltro, anche occasione di riprendere questi temi. Tu sei motociclista, bike? Io sono ciclista, ciclista. Quindi molto verde. Molto verde. Green, proprio per eccellenza. Restiamo proprio su questa ondata green, la definiamo così, sul mercato europeo. Ah, perché ci sono anche le biciclette elettriche? Sì, certo, assolutamente sì. Lo provate in quest'estate, davvero sono favolose. Comunque, biciclette a parte, che fa anche bene, va bene a 360 gradi. Alla luce dell'evoluzione normativa, appunto, possiamo definire questa un'ondata green? Assolutamente, il tema green ambientale, queste resistenze ci sono, è vero, e probabilmente anche la normativa aiuterà a superarle. Io sono di questa idea. Ci troviamo di fronte a un Parlamento europeo che forse non è mai stato così verde come lo è oggi. E, in effetti, i nostri studi dicono che sicuramente si andrà a passi piuttosto rapidi verso una riduzione delle emissioni di CO2 e si stima che scenderanno in Europa del 43% entro il 2030 rispetto ai livelli che erano nel 2005. Sicuramente il punto fondamentale è quello delle energie alternative e qui le stime parlano di circa il 60% dell'energia derivante dal carbone che sarà in futuro invece prodotta attraverso eolico e solare e un altro 40% attraverso il gas. Quindi c'è un cambiamento epocale, se vogliamo andare a vedere, nel settore energetico da questo punto di vista. Poi non dimentichiamoci tutto il sistema di quotazione dei certificati sulla CO2 che appunto daranno, anche in questo caso ci sono state delle importanti riforme, ce ne saranno ancora proprio perché comunque ci sono degli impegni molto forti da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea sulla riduzione dell'inquinamento e quindi anche sull'innanzamento dei target e quindi degli obiettivi per tale riduzione. Probabilmente chi sarà favorito in questo, per dare un taglio più finanziario, saranno favorite quelle utility, quelle imprese con grandi impianti a gas e comunque a bassa intensità di carbonio. Sara, ancora un istante da te perché siamo quasi in chiusura e poi sento anche le conclusioni del Dottor De Mare. Manca meno di un mese a un appuntamento tradizionale che vi riguarda, quindi alla Morning Star Investment Conference. Ci puoi dare qualche anticipazione, intanto dire quando sarà, dove sarà e soprattutto quali sono i temi in agenda? Il 6 novembre alla Fondazione Cattella a Milano sarà una giornata intera dedicata a approfondimenti sia di tematiche macro, interventi, quindi anche che cercheranno un po' di fare il punto su quello che sono i mercati. Si parla tanto di eventi estremi che estremi non sono più, di normali che erano normali non sono più, cercare in qualche modo sui mercati, come leggere i mercati oggi. Poi ci sarà chiaramente una parte dedicata alla sostenibilità, che è un tema che oramai proponiamo da diversi anni, anche con la presentazione della nuova metodologia dei rating di sostenibilità, che proprio prenderà efficacia dal 31 di ottobre. avremo poi un'analisi sull'industria finanziaria, quindi dei gestori che è stretta un po' tra compressione di margini avanzata degli strumenti passivi, avremo quindi il nostro analista su queste tematiche che presenterà un po' il punto di vista, anche l'esperienza americana sul tema e avremo poi anche un'attenzione quest'anno per la prima volta a tutto quello che è il discorso dei private markets, che iniziano a essere un tema comunque di investimento più diffuso e anche quindi di finanziamento all'economia reale, che è un tema molto caldo in Italia. Ecco, segnaliamo anche che sempre a fine ottobre, non sempre, a novembre ci sarà la conferenza, a fine ottobre invece sarà aggiornato anche il vostro analista rating per i fondi, magari ne parleremo nella prossima puntata, Sara, però lo segnaliamo, è in agenda. Allora, dottor De Mare, le sue conclusioni alla luce di quello che è emerso durante questa puntata, quali sono, soprattutto a livello anche di consigli? Per gli investitori, assolutamente. Il posizionamento è su strategia a bassa volatilità, sicuramente la volatilità è qualcosa che dovremo incominciare a rivedere nei nostri portafogli e comunque la strategia che possa in qualche maniera stemperare questi elementi di incertezza di cui abbiamo discusso oggi. Sulla parte equiti sicuramente un premio a rischio è più interessante per la parte obbligazionaria, ma io consiglio sempre un approccio molto più diversificato in una posizione multi-asset con delle gestori che riescono ad allocare al meglio contenendo volatilità da un lato e generando un income al contempo perché è sempre quello che cerca il cliente, cioè un coupon che possa integrare un po' salari, stipendi, pensione e quant'altro. Perfetto, va bene. Allora, le va bene perché non abbiamo tempo, se no l'avrei fatta cantare. Prossima volta però, è la volta buona che non viene più a trovarci. Stringers in the night. Ha scelto anche la canzone, ricordamelo anche tu Sara. Assolutamente. Grazie a Sara Silano Morningstar Italy che continuiamo a seguire naturalmente con le analisi e naturalmente grazie a Giovanni De Mare, director Italy Sales di Alliance Bernstein per essere stati con me anche per questa puntata di Market Star. Grazie a te. Andiamo in pubblicità, tra poco le analisi di Giovanni Borsi, quindi scriveteci se avete voglia di fare delle domande. Grazie a tutti.